Ovviamente non potevamo farci mancare nemmeno il caso Darderi, o Darderi che dirsi voglia, ma a quanto pare si dice Darderi, insomma, no, idolo argentino, lui che dichiara di sentirsi ovviamente più argentino perché è nato in Argentina, ma quando era ragazzo è giunto in Italia dove è cresciuto tennisticamente, insomma tutte queste storie qui portano a che cosa? Portano ad un odio praticamente quasi automatico da parte di certe persone, soprattutto lo possiamo vedere sui social, a calci in culo, rivattene in Argentina, all'uno neo italiano, di là e di qua Allora, io devo dirvi la verità, mi trovo un po' in una posizione, diciamo, nel mezzo, nel senso che condanno ovviamente tutti gli insulti, tutte queste cose qui E dico che fin quando si trova a gareggiare, fin quando si troverà a gareggiare sotto bandiera italiana, vince un titolo, come è accaduto in questo caso, si esulta Il titolo verrà riflettato come vinto da un italiano, punto, poi se in un futuro, che sia, che ne so, fra due mesi, fra due anni, non so quando Gareggerà, inizierà, diciamo, a gareggiare, a competere, o meglio, non a gareggiare sotto bandiera argentina Ok, ciao, quella è la porta, tanti saluti Ha il doppio passaporto, è nato in Argentina, è cresciuto tennisticamente in Italia Ha, se non erro, dei nonni di origine argentina, non ho ben capito comunque Perché tutto quest'odio verso questa persona, da parte di alcune persone, per carità, eh, non tutti Però, cioè, è ovvio che poi i social da questo punto di vista sono veramente una fogna, una fogna, a cielo aperto E quindi mi danno veramente fastidio queste affermazioni, queste cose qui Però, perché mi trovo in una situazione, diciamo, a metà? Perché allo stesso tempo, è una situazione del resto, con queste dichiarazioni, nel senso, mi sento più argentino Quello e quell'altro, no? È una situazione oggettivamente ambigua Quindi, diciamo che ho esultato, in passato, molto di più per titoli vinti da altri italiani Sinner a parte, che Sinner, vabbè, ci sta facendo godere proprio a gonfie vele, come direbbe qualcuno, insomma Però, considerando magari i vari Musetti, Sonico, Fognini, ovviamente Cioè, diciamo che ho goduto e ho esultato di più per tornei vinti da altri italiani Ma non per questo non sono contento per questa vittoria di Darderi Ecco, questa è un po' la mia visione e il mio punto di vista Comunque, ditemi la vostra qui sotto nei commenti Iscrivetevi, campanella mi piace E, che dire, ATP 250 di Cordoba Dalle qualificazioni alla vittoria finale Dal numero 130 in rotti del ranking ATP Al numero 76 all'inizio di questa settimana Quindi si entra in top 100, anzi in top 80 Ora è iscritto a Buenos Aires, dove ha uno special exempt Nel senso che, di diritto, verso il percorso fatto a Cordoba Si trova in tabellone E quindi, che dire Bravo Luciano, o Luciano, che dir si voglia Darderi nel vincere il suo primo titolo a livello ATP Ricordiamo, partendo dalle qualificazioni Dibattendo anche giocatori come Amfman E Baez, che comunque Quanto meno su terra Sono giocatori di tutto rispetto Comunque E infatti Darderi Ha le caratteristiche proprio del Del terraiolo, insomma Ha un carattere un po' Un po' particolare Nel senso, anche ieri Si è innervosito Insomma, un po' Un po' fumantino forse Come carattere Ma non avendolo Praticamente mai visto prima giocare Tranne una volta, se non erro Questa è stata la seconda In questo torneo Soprattutto la finale Con Bagnis Cioè, non avendolo mai visto giocare prima Insomma, non posso giudicare più di tanto Però è un terraiolo Insomma, e Considerando che siamo Proprio all'inizio della stagione Sud-Terra sud-americana Poi ci si sposterà in Europa Lo sappiamo, no? Ora Questo ATP di Cordoba Era proprio il primissimo Torneo su terra della stagione Ora ci sarà Buenos Aires Poi Rio Insomma, poi tutta la stagione su terra Non avendo Tra l'altro molti punti, no? Da difendere Anzi, credo Abbastanza pochi ora Non so quanti Però Non avendo praticamente molti punti Da difendere Potrebbe fare bene Sulla scia, no? Sull'onda Cavalcando l'onda dell'entusiasmo E quindi Tifiamo per lui Tifiamo per lui Batte bandiera italiana Tifiamo per lui Poi si possono fare Come ho detto fino a poco fa Cioè, tutti i discorsi del mondo E anche io, ripeto Mi trovo in una situazione Un po' così Dove ho esultato Ma nemmeno troppo Perché è una situazione Un po' ambigua È ovvio Cioè, che ci pensi Quando pensi Ok, un idola argentino Che dichiara comunque Di sentirsi argentino Però gioca in Italia Perché è cresciuta Ternisticamente in Italia È ovvio che magari Ci pensi un po' È una cosa oggettiva Secondo me Cioè, non me ne devo vergognare Però, allo stesso tempo Ripeto Non Non passare Da un eccesso all'altro Quindi Bravissimo Darderi Che, ripeto Numero 76 al mondo Da oggi In pratica Da lunedì 12 febbraio E, tra l'altro In passato a Cordoba Sappiamo a Cordoba Non che ci siano Insomma, sempre Grandi campioni Anzi È un torneo Occasione Diciamo per coloro Che sono un po' Delle seconde linee Sempre tra virgolette Ricordiamo qualche anno fa Juan Manuel Serundolo Il fratello più piccolo Di Francisco Serundolo Che partì dalle qualificazioni E arrivò a vincere Arrivò a vincere Il suo primo Ed unico Finora titolo A livello ATP Poi Ebbe Insomma Quel picco Poi Praticamente adesso È tornato a giocare Prevalentemente ATP Challenger Quindi Insomma Sono È veramente Una grande occasione E Darderi La sfrutta Alla grande Partendo dalle qualificazioni Quindi Bravissimo E Poi vabbè Gli altri tornei Della settimana Sempre a livello ATP ATP di Marsiglia Vinto da ATP 250 Di Marsiglia Ovviamente Indoor Cemento Vinto da Cemento Vabbè Sul duro Diciamo così Vinto da Da Jumber Che è al suo Quinto titolo in carriera Io ti favore Dimitro Sinceramente Però Vabbè È andata così Magari anche Un po' di stanchezza Eccetera Stanchezza Che tra l'altro Tornando un attimo A Cordoba Ha avuto anche Bagnis Facundo Bagnis Argentino Avversario Di Darderi Che io Tra l'altro Ho visto Giocare 5-6 anni fa Circa 5 anni e mezzo fa In un Challenger In Abruzzo Tra l'altro Vinto da lui Così Giusto per la cronaca Era Veramente stanco Cotto Si muoveva poco Insomma I colpi Non erano Non erano Molto incisivi Poi Diciamo È anche stato Darderi A rimetterlo Un po' di partita Magari Un po' di tensione Per l'italiano Però Alla fine Diciamo che Nel complesso Se l'è portata a casa Abbastanza In maniera sciolta Ecco Ma L'avversario Bagnis Aveva Delle belle Difficoltà fisiche Quindi Non è stata Comunque Una finale Alla pari Però Bravissimo Ad approfittarne Appunto Darderi Ma dicevo Dimitrov Ti favo per Dimitrov A Marzia Però Vince Jumber E comunque È andata così ATP 250 Di Dallas Invece Oltreoceano Quindi Dall'altra parte Del mondo Di fatto Negli Stati Uniti Finale Tutta statunitense Vince Tommy Paul Contro Marcos Ghirono Tra l'altro I due Sono molto amici Praticamente Hanno combattuto Per tre ore E poi scherzano Come se nulla fosse Comunque sono sempre Delle belle immagini Quindi vince Tommy Paul E Mentre Per quanto riguarda I tornei WTA Torna alla vittoria Carolina Pliskova Dopo qualcosa Come Quattro anni Poco più di quattro anni Se non erro Torna alla vittoria WTA 250 Di Cluj In Romania Batte La rumena Bogdan In finale E quindi Carolina Pliskova Torna al successo Torna al successo Anche Ribachina Quindi Mette in bacheca Il primo torneo Della stagione Dopo insomma La delusione Australian Open Perché è uscita Oggettivamente Abbastanza presto Quindi È stata comunque Una delusione Il suo Australian Open Vista anche la finale Dello scorso anno Però Si va a prendere Il WTA 500 Di Abu Dhabi In finale Contro Contro Non ricordo chi In finale Contro non ricordo chi Però comunque Vince 2-7-0 Ribachina Quindi Contento anche per lei I tornei Di questa settimana Che viene Tornando negli Stati Uniti ATP 250 Di Del Rey Beach Torneo che abbiamo imparato A conoscere Insomma Negli ultimi anni Abbiamo Un Matteo Ornaldi In In tabellone Tra l'altro Testa di serie numero 1 È Taylor Fritz Ma avevamo anche Koboli nelle qualificazioni Che ha perso L'ultimo turno di qualificazione Ora Dei 4 che hanno perso All'ultimo Al secondo E quindi Ultimo turno di qualificazione È quello con la classifica migliore Quindi Speriamo magari In un ritiro Da parte di qualcun altro Anche se Non lo so La vedo un po' difficile Però Speriamo perché Sarebbe comunque Il primo ad essere Ripescato Comunque Koboli Peccato perché Era andato in vantaggio Contro Il Moreno De Alboran Che ha una classifica Comunque peggiore Rispetto alla sua Però Anche lui sarà Se non erro Un giovane Promettente Spagnolo Quindi Peccato Koboli Che ora Ha una buona classifica Ecco Attorno alla numero Alla numero 70 Poco più Peccato per questa Non qualificazione Però Vediamo se Se verrà Tante le volte Ripescato Poi ATP Di Buenos Aires Torna Quindi Prosegue La La stagione Su terra Secondo torneo Torna in campo Carlos Alcaraz Testa di serie Numero 1 Testa di serie Numero 2 Cameron Norley E abbiamo Un Vavasori In tabellone Che si è qualificato Quindi Bravissimo Bravo Sempre bravo Quando uno come Vavasori Che si sta concentrando Negli ultimi tempi Diciamo Maggiormente Cioè diciamo Si sta concentrando Di più Sul singolare No? Poi ovviamente Sempre Con il doppio Si va avanti Recentemente No? Abbiamo visto tutti Finale all'Australian Open Con Bolelli Però Anche nel singolare Comunque Sta Sta sparando Diciamo Delle buone cartucce E sta ottenendo Dei buoni risultati Anche Quindi Si qualifica E vediamo Come andrà contro Il brasiliano Saibot Vild Credo che si dica così Ma non sono troppo sicuro Comunque Vavasori Poi Darderi L'abbiamo detto Eh Poi non so Se si dovesse Ritirare Darderi Visto comunque Le fatiche di Cordoba Eh Può essere pure Io Nel momento in cui Registro il video Non sono al corrente Di un eventuale ritiro Eh Ci sto pensando adesso Però Non so Vediamo Vediamo come 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 si svilupperà La situazione Poi A livello WTA Abbiamo Un solo torneo Questa settimana Tra virgolette Un solo torneo Perché è il primo WTA 1000 Della stagione Con Iga Sbiontek Tessari serie Numero 1 Avevamo Una sola italiana Ai nassi di partenza Jasmine Paolini Che perde 2-7-0 Contro La statunitense Emma Navarro Che in questo inizio di stagione Sta facendo bene Comunque nel complesso Ha Cominciato bene Quindi Peccato per Paolini Che è uscita subito Ecco Quindi Tessari serie numero 1 Sbiontek Come sappiamo La vincitrice Invece dello Storiano Open Sabalenka Non c'è E per me Ha fatto bene Perché Perché una come Sabalenka A livello mentale Deve avere Deve poter avere Il giusto tempo Per ricaricare le pile Lei lo sa Lei si conosce Quindi se L'abbiamo vista Qualche giorno fa Stava rilassando In una spa Non so dove In giro per il mondo Però si stava rilassando Evidentemente Deve ricaricare le pile Ha appena vinto Comunque Ha da poco vinto Uno slam Il suo secondo slam E quindi Che le vuoi dire Insomma Sì ok È un WTA 1000 Quindi ho visto Qualche critica Da parte di qualcuno Cavolo Snob il primo WTA 1000 Della stagione Dovresti essere carica E però Allo stesso tempo Secondo me Lei lo sa Solo lei lo sa Come Riesce a ricaricarsi Perché appunto Mentalmente È delicata Sabalenka Quindi Attenzione anche Con i giudizi Comunque Non ci sarà La Bielorussia Ovviamente La Bielorussia Ovviamente In Qatar E tornando Ai tornei ATP Ovviamente Me lo sono lasciato Per ultimo Il 500 Di Rotterdam Lo scorso anno Ricordiamo Finale Vinta da Medvedev Conto Una delle varie finali Che ci sono state Fra Medvedev E Sinner Vinta dal Russo Quest'anno Medvedev Non ci sarà Sinner Torna in campo Quindi dopo La straordinaria vittoria Allo Australian Open Testa di serie Numero 1 Ovviamente È il favorito Per forza di cose Per forza di cose Deve avere Sulle spalle Questa pressione Perché è in un 500 È testa di serie numero 1 Appena vinto L'Ostraliano Open Come fa a non essere Il favorito Testa di serie numero 2 Se non erro È Rublet Quindi all'altra parte Del tabellone Tra l'altro Cosa curiosa Sinner Affronterà Vanden Zanskulp Secondo torneo In stagione Entrambe le volte Si inizia contro Vanden Zanskulp Qui sarà magari Ecco Difficile Perché Per questi motivi Vanden Zanskulp È olandese Gioca in casa Ovviamente Siamo a Rotterdam In Olanda Ovviamente Sinner Cioè Deve adattarsi All'indoor Altre condizioni Rispetto a quelle Avute in Australia Quindi Insomma Certo Sono un bel po' Di giorni Che ormai Ormai si sta allenando Quindi sicuramente Magari sarà preparato Però Attenzione Era ostico Vanden Zanskulp In Australia È ostico anche qui E soprattutto In Europa E quindi In Olanda A casa sua E Poi abbiamo Vabbè anche Musetti Che Nell'ultimo torneo Quindi a Marsiglia Aveva perso Agli ottavi di finale Contro il cieco Il cieco Machac E abbiamo E avremo anche Lorenzo Sonico In tabellone Mentre Zepieri Si è fermato Alle qualificazioni Peccato perché Più di una volta Zepieri arriva magari All'ultimo torneo Di qualificazione E poi cade E poi perde Non riesce a fare Quel passo Quello step in più Però vabbè Dai Quindi che dire Forza Jannik Che torna in campo Ovviamente Non nascondiamoci Soprattutto dopo Dopo l'Aip Che ci ha regalato Sinner Con la vittoria Dello Serenano È ovvio che tutti Aspettano Di vedere Sinner E gli altri Passano un po' In secondo piano È anche normale Ma Ok Passare leggermente In secondo piano Ok Ma Trascurare Tutti gli altri Nostri atleti Assolutamente no Perché Non sarebbe rispettoso Proprio nei loro confronti Però comunque Forza Jannik Forza Azzurri In generale Ovunque voi siate E ovunque voi giochiate Giocherete Iscrivetevi Iscrivetevi Campanella Mi piace Se mi sono Dimenticato qualcosa Ovviamente Lo aggiungerò Nei commenti Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti